Focus oggi proprio sul Rene, il tema che sta dominando queste settimane con una notizia che arriva da una ricerca della seconda Università di Napoli, una notizia negativa perché in Campania quasi cinque potenziali donatori hanno risposto no ad una intervista sulla disponibilità all'espianto, diciamo dopo la dipartita, con gravi conseguenze per la salvezza dei pazienti e per le casse del sistema sanitario nazionale. Secondo gli autori della ricerca c'è un problema culturale che è il culto del corpo e della sua conservazione anche quando si è morti, eppure soltanto in Campania ci sono 1200 persone che aspettano un organo parcheggiati in dialisi dove un anno di terapia equivale a cinque anni di vita normale.